ciao ragazzi e ragazzi eccoci tornata eccoci tornata eccoci tornati il tuo italiano sempre perfetto con una nuova challenge se non avete visto la prima ve la lasciamo qui e oggi ha deciso di fare perché sono molto contraria a questa cosa la talent sulle caramelle di Harry Potter e voi che mi seguite su instagram e facebook lo sapete non credete e in breve perché non conoscesse questa challenge che vi giuro fa morire da ridere e tipo una che mi ha fatto ridere tantissimo è quella di me incontro te che vi lascio anche il loro canale sotto perché fanno delle challenge carinissime e mi ha fatto ridere tantissimo anche quella di otta e di giulia quindi quindi make up quindi carinissimo come fare più che altro una paura assurda come funziona ho detto ci sono delle caramelle da dei gusti abbastanza improbabili non lo so non lo so non lo so cosa bisogna fare bisogna chiudere gli occhi pescare non barare come farebbe lei lo sapete chi ha che ha barato diciamo i buggin e pescare una caramella ad occhi chiusi e devi indovinare il gusto della caramella e io ho dato che qui dietro ci sono scritti e dovrò controllare che il gusto sia quello insomma capirete nel corso del video e io vi avverto subito che se continuo il video è perché sono tutta raffreddata e quindi non sento i sapori o potrebbe andare anche in un altro modo ovvero che io abbandono la challenge asomai questo è il mio cestino io ho anche i fazzoletti per sputare la roba io direi che possiamo iniziare iniziate no iniziate ho bisogno di una botta di coraggio ho bisogno di coraggio asmettila dai passi queste cose ah inizia muuuu 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 eh vista la devo far vedere avvicinano guarda buona fortuna può espontare si chiedi gli occhi però sono indiziato qua ma io le ho vietaggiani davanti al stovo muuuu buona fortuna buona fortuna massica che è? è una massica è bello gomma la massica è buona però no è una merda sto mangiando una schifosa è buona è buona amore è tipo di zucchero filato no oh è buona devi mangiarla no si fa schifo la spuga no si fa così ma che cos'è? dimone dimone è buona sparaculata ahahah ahahah cosa la fai? vado aspetta non so qual è ma in odore ma tu ti metti un po' in odore perchè perchè non ho fatto non so questa qual è lei che sa? le schifo cosa? o ciliegio o cannella? cannella chiudi gli occhi vai vai cosa? no cos'è? 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 che gusto? no no che gusto rullo di tamburi rotten egg ti scrivo uova marce per te sarò la mia volta buona aia 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 qualcosa di fruttoso non so tanto se vuole solo perchè è la verde o green egg o watermelon o mela o melo buona? mi gusta ma non vale very good simone stai a testare stai a fare la merda tu dico cosa? no amore non ci siamo l'avevi su lui mescolo stai a mettere davanti tutte le spruzze non lo guardo mai e stai a riuscire e stai a riuscire perchè l'hai preso? chiudi gli occhi chiudili io ce l'ho chiusi perchè ti sentivo che si smagli le caramelle io faccio così eppri così fai come te pare guarda quello che stai sentendo cadere cos'è? mela merda come lo sento? dai che buona raccogliamo i tuoi residui di caramello ho fasteggiato tanto per me non mi ha togliolo io cos'è? ma io non so io non li so distingue comunque i gusti c'ho dei problemi cos'è? c***o ma gli schifo è? la fai così uuuuuh veniva sulle bolle prova a fare sapone brava c***o chiudi i stocchi così vanno bene ragazzi e ragazze dai non mi chiede a me io non mi chiamo Fabio dai e vedi il colore guarda che stai forte green apple penso che tu hai un po' di culo la cucaragia la cucaragia la cucaragia la cucaragia e ora tocca a te hai lì sta? bene buona fortuna non vuoi dire così buona fortuna buona sicura non so non so non so no 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 cosa? pizzica così stupida no schifo verme non si sa cos'era forse io ho visto che era rossa ma a me sembrava c***a a me sembrava verme hai tolto le più buone? vai infatti odore qua si guarda questa faccia del vai come ha come ha mi ha detto? come ha? ma ti sono buona si ahahahah ahahahah Ehi, chiudili. No, ho perso. Lei l'hai vista bene? No, ho gli occhi chiusi. Posso mettere in bocca? Però, però, però. Non è buona. Non è buona, è piccino. Oh, che schifo è. L'unica arancione è quello che mi segnala. Mi pare che sia un vomito. E va bene così. Tu posso? Mh. Questa è la più buona. La bacca di tutte. Finatra. Grazie a te. Sì, acqua. Vai. Questa è la più buona. Che c'è? Era che sono delle uova macchia, amore. E' schifo. Ma io che ho avventato queste caramelle. Mi sono andato la pelle d'oca. Mi vede il vomito quando ho poco disgustato, te lo giuro. Come vuoi? Io direi che la vincitrice della challenge sono io. Perfetto. Perché sì. E niente, ha dovuto prendere una sigaretta per me. Non vomito. Perfetto. Noi ci vediamo alla prossima challenge. Fateci sapere nei commenti quale challenge suggerite. Vi mandiamo un bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!